Rispondo solo alle domande di un pubblico più vasto, che non fa nessuna pratica. A un certo punto interromperò l'intrattenimento, totalmente. Non sono il tipo da darti una conclusione, io sono un processo. Se hai la volontà di essere un processo di crescita, sono qui per te. Vuoi una conclusione? Ti frustrerò. L'idea di fare sadhana è che tutte le domande bruceranno, non che troverai risposte. Quindi non credere mai che il tuo intelletto conoscerà. Non conoscerà. Namaskaram, Sadhguru. Sadhguru, ho centinaia di domande. Ne farò solo una. Vorrei sapere, le pratiche che offri, come Latha Yoga, Shambhavi e Shakti Chalanakriya, il processo di Samyama. Se le seguo intensamente e con coinvolgimento, tutte le mie domande troveranno risposta. No, nessuna delle tue domande troverà risposta. Rispondo solo alle domande di un pubblico più vasto che non fa nessuna pratica. Quelli che praticano ogni giorno, intensamente. Prendo qualcuna delle loro domande o rispondo a qualche domanda? No, non lo faccio. Perché? L'idea di fare sadhana è che tutte le domande bruceranno, non che troverai risposte. Se le tue domande sono andate, cosa significano le risposte? Le persone che non fanno niente per il proprio benessere interiore, ma pensano che facendo una domanda e ascoltando una risposta, la loro vita verrà risolta. Le stiamo ancora intrattenendo. Ok? A un certo punto interromperò l'intrattenimento. Totalmente. Al momento è ancora attivo. A un certo punto sarà disponibile solamente per coloro che fanno la propria sadhana intensamente. Gli altri... devono ascoltare YouTube. Perché... Sai, il vecchio cinema è sempre di intrattenimento. Perché devi capire questo? Le domande vengono da un posto che non puoi mai conoscere. Il posto da cui fai le domande non è in grado di conoscere niente. Vuole una conclusione. Non sono il tipo da darti una conclusione. Io sono un processo. Se hai la volontà di essere un processo di crescita, sono qui per te. Vuoi una conclusione? Ti frustrerò. Perché... Qual è il punto di una conclusione? Questo è un processo continuo. E il processo diventa così bello e inebriante che non ti importa dove è la conclusione. Allora non hai nessuna domanda. Quindi, se faccio tutta la mia sadhana, ne parli come se fosse un processo tortuoso. Se faccio tutto questo, tutte le mie domande avranno una risposta? Vedi? È successo questo. Shankarampillai? Ehi, non è giusto. Non è sempre divertente. A volte è serio. Shankarampillai chiese il divorzio. Nel modulo del divorzio che depositò in tribunale scrisse «Voglio la separazione per malattia ed esaurimento». Il giudice guardò questo e chiese «Cosa significa questa malattia ed esaurimento?». Allora Shankarampillai disse «È il lavoro del mio avvocato e io ho solo detto che sono arcistufo di lei?». Quindi le domande possono trovare risposte in molti modi. Quindi, da principiante, se hai delle domande, perché è così che il desiderio inizia, sotto forma di domanda, va bene. non siamo contro le domande, ma voglio che tu sappia che il luogo in cui tutte queste domande vengono prodotte, quel luogo è incapace di conoscere. è così. Sai, fai questo. Non farlo. No, devi farlo da qualche parte nel tuo bagno. Almeno questo devi farlo. Non dovresti farlo ovunque. Quindi fai questo per pulire le tue narici. Dopo un po', se domandi «Il mio dito può respirare?» Può pulire il passaggio. Ma non può respirare. Quindi non credere mai che il tuo intelletto conoscerà. Non conoscerà. Fa domande perché... È così al momento. Va bene. Niente di male al riguardo. Non conoscerò il anno.